PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Sì, perché tanto però ti ha dato quell'altra Ah, no, è vero, hai ragione Ho la mia laser massail Oh mio Dio, e ho anche tantissime cose che oggi dovremmo fare, sbriserino Oh, e vai, sì, che cosa dobbiamo fare oggi? Allora, innanzitutto andiamo a vedere come sta dolcetta che... Ah, papà, vero, tu non l'hai visto Perché ti sei svegliato tardi Che cosa? Leggi quel messaggio Quale messaggio? Questo? Dov'è andata, dolcetta? Leggilo Ok Vediamo un attimo cosa c'è scritto Ciao, sbriser, sono venuta in casa giusto per vedere come stava sbriserino Onestamente non ho intenzione di stare per più tempo Prenditi cura di lui, dolcetta Cosa? S'era andata di già? Sì, evidentemente non voleva rimanere più per più tempo qua Oh, cacchio E vabbè, papà, tranquillo, tanto non è un problema, giusto? Ci divertiamo anche da soli Sì, sì, hai ragione Beh, comunque detto questo Allora, controllare le cam Ok, andiamo a controllare le telecamere Che danno verso casa del vicino, sbriserino Perché è la prima cosa che dobbiamo controllare, ok? Perché magari il vicino ha cambiato delle cose Sì, è vero, papà, hai ragione Allora, vedete quelle telecamere, ragazzi? Eccole, abbiamo installate, io e sbriserino Per calcolare tutti i movimenti che potesse fare il vicino E vedere se effettivamente ci potrebbero cambiare Ma sbriserino, ma scusa, ma ha ricostruito casa sua? Sì, papà, guarda Ha ricostruito la sua facciata, non la vedi? Oh mio Dio Non ci voglio credere Quindi praticamente il vicino è attivo E sa che praticamente siamo stati noi a distruggergliela Sì, beh, effettivamente, ma poi in realtà sono stato io a distruggergliela Sì, hai ragione Bravo Comunque Va bene, ok Le telecamere credo che non abbiano registrato nulla E intanto comunque sono Sono ancora lì Quindi, ok Le telecamere Check Ok Sì, e poi Bene E dopo che cosa c'è? Ok Dopo dobbiamo andare al supermercato Giusto, papà, perché voglio una buona torta Una torta? Sì, voglio una torta Ecco perché ti ho scritto quelle cose Infatti io non avevo in mente tutte queste cose da fare per oggi E invece no, papà Voglio una torta Andiamo a fare una torta Andiamo Ok, va bene, va bene, va bene Aspetta, fammi chiudere la porta Ecco qua Voglio vedere un attimo se ho i soldi giusti Sì, a voglia Perfetto, possiamo andare E vai, e vai Oggi si mangiano torte Torte di tutti i tipi Ah, ma guarda Hanno aperto un supermercato qua, sbiserino Oh, meno male Ci serviva proprio un supermercato qua vicino Andiamo Ok Allora, salve Salve Ok, allora Salve Mi servirebbe Allora Un uovo Tre di grano Tre di latte E due di zucchero Allora, aspetti un attimo perché non ho una memoria Ho la memoria corta, allora A lei gli servono, quindi Un uovo Sì, un uovo Un uovo Un uovo Un uovo Ok, sì Eccolo qua E poi Ok, poi tre di grano Sì, tre di grano Trovato Perfetto Eccolo qua Ok E poi Tre di latte Sì, ma aspettate Dovete fare una torta Sì, sì Proprio così Ah, allora immagino che dopo tre di latte vi servono due di zucchero Esattamente, proprio così Eh, io faccio tante torte Ah, davvero? Sì, sì, sì Tre di grano Tre di zucchero Tre di latte Sì, perfetto Ci siamo Sbriserino E voi Grazie mille mercante Arrivederci ragazzi Mi raccomando Non fate esprudere la cucina No, no Non si prudere Ma che cacchio Vabbè, comunque Ah, perfetto Sbriserino E voi Ottimo Ragazzi, aspettate Se siete arrivati a questo minuto del video Scrivete qua sotto nei commenti Come potremmo migliorare casa nostra È vero ragazzi Perché migliorare casa nostra È fondamentale D'interno di questa serie Perché dobbiamo creare una casa molto più grande E magari anche molto più bella Perché è un po' come dire Sì, è molto grezza in questo momento Quindi mi raccomando Scriveteci tutto quello che potremmo fare Giusto Ok, detto questo Andiamo un attimo a casa Sbriserino E andiamo a creare la torta Va bene? E voi Che bella la torta Non avevo Veramente Voglia di nient'altro Voglio solamente una buona torta Ok Ecco qua Fatta la torta E voi Ok Ora mangiala Mi raccomando Non ci bartene troppo Va bene? Allora ragazzi Io intanto Mentre Sbriserino si mangia la torta Devo Ok, devo andare poi da noob Va bene Devo andarla a controllare Perché Sbriserino Papà Papà Cosa accade? Mi sento Male Cos'è stato questo suono? Eroi Sbriserino Ma stai continuando a scorreggiare? Sì Papà Ok, quindi andiamo da noob E andiamo a controllare Come sta Noob Ci sei? Entro Sbriserino La porta è aperta Noob Ma cosa accade? Noob Ma stai bevendo Noob Ma che cosa ti accade? Sbriser Mi sono sentito violato Mi ha rapito Quello vicino Nello scorso video E quel tizio Mi ha Mi ha Mi ha fatto del male Mi sono sentito veramente Un illuso Ma noob Non puoi bere Tutto questo Pir Cos'è? No Non puoi berla Noob Che cacchio Che cosa è questa cosa? La mia pipì Cosa? La tua pipì? La mia pipì Ma che schifo Ma sei pazzo Che ti bevi la tua pipì? Ma io la faccio sempre Sbriser Oh mamma mia Che schifo Oh no 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 Oh sciapolette nube Che non ti venga più in mente Di andare a bere ancora pipì Eh? Eh no Sbriser Però Mi sento davvero male Andiamo di sopra Andiamo di sopra Sì Perché Mi sento davvero come se Il tizio mi abbia Trasportato via Qualcosa di mio Ah Perché c'è il bagno nel Ah vabbè Effettivamente è normale da te Infatti è normalissimo Vabbè Comunque Tranquillo nube No io e Sbriserino Saremo attenti A tutto quello che accade Eh Nessuno ti potrà fare del male Perché grazie a questa cosa Guarda va Oh boom Oh mio dio Sì esatto Tranquillo Noi Io e Sbriserino Ti proteggeremo E non permetteremo a quel vicino Di romperti le scatole Va bene Ok grazie Sbriser Ora mi sento molto meglio E non verti la pipì Va bene Oh mamma mia Veramente Ah andiamo da Sbriserino Andiamo a vedere Che cosa di fine ha fatto Oh sciapoletto Se sciapolette Oh mio dio Ma che cosa Sbriserino Sbriserino Ma questa è No non può essere vero No non può essere vero Oddio Stanno pure nelle scale Sbriserino ma che cosa hai fatto Oh mamma mia Oh che schifo Quanto ce n'è Oh Miserino Ma che cos'è Tutto quello a copolo È la mia cacca Ma che ti stai dicendo Cos'è fa Mannaggia a te Figlio del cavolo Oh No papà No Ora mi sento molto meglio però Ma mi è smerratato Praticamente il letto Non ti dicono queste cose papà Non me ne importa Guarda qua Oh mio dio Ma sai quando ci metterò a ripulire tutte quante le coperte Lo so Però l'ho dovuto fare papà Era una questione di vita o di morte E io dovevo necessariamente cacare Oh mio dio Sbriserino Ok senti Ripulisci subito tutto Altrimenti Veramente di qua Non ti Non rimarranno neanche le tue scarpe Ok va bene va bene va bene va bene Mamma mia veramente Io Veramente Esco e voglio rivedere tutto pulito Va bene ok tranquillo Oh mamma mia Che schifo Oh no Ho tutta la cacca nelle scarpe Devo pulirmi i piedi Devo pulirmi i piedi Ecco qua Oh Gesù Ma perché Perché quel tizio veramente fa così Porca miseria Sbriserino Ah Bene Adesso andiamo da Leila E andiamo a chiederle magari se Poi in un certo senso Ritornare con me Perché l'avevo L'avevo scritto qua E non saprei onestamente se chiederglielo ragazzi Il fatto sapete cos'è E che con dolcetta Ok ho avuto un sacco di avventure Ma credo che con dolcetta Sia effettivamente Si sia effettivamente conclusa di netto Una parte della mia vita E mi sa che mi serve qualcuno In grado magari di starmi a fianco Nei momenti più difficili La persona magari Che potrebbe effettivamente essere quella persona Potrebbe essere Leila Leila Io l'ho conosciuta E però dovrei in realtà conoscerla molto meglio Quindi spero vivamente Che con questa serie Riusciremo a conoscerla tutti quanti insieme Leila Sembra se lei dovesse accettare Dato che praticamente l'ho fatta andare via In una maniera molto molto brusca Ok andiamo da Leila Ok Leila Oh sei tu Dimmi Ciao Leila Scusa Senti Hai ragione Ti ho trattato veramente male Non dovevo assolutamente Sì ragione Mi hai trattato proprio male Proprio tanto Ok che sei Ti senti Ti ho tirato di conto Mi hai cacciato No 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 Era il genere Era il genere Ho sbagliato E non dovevo assolutamente comportarmi in questa maniera Così tanto irruente con te Mi sono veramente superato E mi sento mortificato Leila Che ne dici magari di Magari Che ne dici di Riprendere Da dove eravamo rimasti O Ancora meglio Magari resettare un po' tutto E magari Ricominciare Meglio La nostra Frequentazione Però Sbri Mi offesa Proprio Vabbè sai che ti dico Va bene Ciao Aspetta In che senso Leila non dimmi che te ne stai andando di nuovo con Sbrizer Sì Infatti Ciao Oh Ok va bene L'ho detto io L'ha detto lui Hai ragione Bene Allora pure questo Possiamo segnarlo Ok Bene Attenta quando entri in casa Perché oh mio dio Il canone non ha pulito Niente Sbrizerino Perché c'è del cioccolato a terra No no È la mia cacca Va bene Ok Cioè se fate così No 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 Tranquilla tranquilla Tra non molto la mangerà Chi Chi la mangerà Il cane Il quale Il cane Eh Io Sono cane Sbrizerino Sì papà Cacchio era quel tizio Era cane Non l'hai sentito No no Non stai facendo piangere adesso Leila Mannaggia a te Ma no papà Era era un ca 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 Era un ca